Ben trovati dalla redazione aquilana del Tg di TV6, in apertura quest'oggi parliamo del Parco Gran Sasso e Monti della Laga, niente referendum sui confini. Il Consiglio Superiore della Magistratura infatti ha bocciato l'incarico che era stato assegnato al magistrato Giuseppe Romano Gargarella proprio dal presidente del Tribunale dell'Aquila. Un duro colpo al diritto dei cittadini a partecipare al referendum, ha detto Luigi Faccia, il fondatore del comitato, che proprio oggi insieme ad altri cittadini ha inoltrato un esposto al prefetto. Sentiamo tutti i particolari nel servizio. È stato inoltrato un esposto direttamente al prefetto dell'Aquila, Francesco Alecci, da parte del comitato promotore del referendum consultivo Gran Sasso, perché il Consiglio Superiore della Magistratura ha di fatto bocciato la nomina del giudice Giuseppe Romano Gargarella quale membro del comitato dei Garanti, espressa dal presidente del Tribunale dell'Aquila. Un duro colpo al diritto dei cittadini di partecipare democraticamente al referendum, hanno tonato i fondatori del comitato Luigi Faccia e legale rappresentante Gianluca Museo. In sostanza sarebbe stato un referendum sui confini dell'area protetta del Gran Sasso e Monti della Laga, con la proposta di rimodulazione dei confini dell'area protetta e con la richiesta rivolta alla regione di limitare i cosiddetti SIC, siti di interesse comunitario, già individuati che in base alla direttiva europea Habitat, dovrebbero essere trasformati in zone speciali di conservazione. Una consultazione popolare per la quale erano già state raccolte 5.000 firme e che a quanto pare non sa da fare. La raccolta firme deve essere sospesa e noi riteniamo che la democrazia in questa città proprio sia interrotta con questa situazione, in quanto un po' per quanto riguarda il CSM che ha negato la partecipazione del magistrato nel Comitato dei Garanti, ma soprattutto dovuto a uno statuto e un regolamento sulla partecipazione del Comune dell'Aquila che è completamente inapplicabile, il diritto alla partecipazione dei cittadini dell'Aquila da questo giorno viene a cessare, quindi cessa la democrazia in questa città. Lo statuto del Comune dell'Aquila all'articolo 5 prevede che vengano eletti quali membri del Comitato Garanti, dei promotori in referendum, un difensore civico, un segretario comunale e il presidente del Tribunale, che a sua volta ha delegato al giudice Gargarella il suo incarico, bocciato poi dal Consiglio Superiore della Magistratura, perché ritenuto non conferente al ruolo istituzionale del magistrato. È la prima volta, spiega l'Avvocato Museo, che al Comune dell'Aquila si fa ricorso al referendum consultivo. Giuridicamente significa che abbiamo dovuto necessariamente inoltrare stamane un'istanza al prefetto, perché l'articolo 15 ha di fatto purtroppo negato ai cittadini quel diritto loro costituzionalmente garantito di potersi esprimere per mezzo di un referendum consultivo. E apriamo la pagina dedicata alla cronaca giudiziaria. L'Aquila, le inchieste scuotono la città, non si parla d'altro. Tangenti e mazzette tra lo sdegno degli aquilani e della parte politica, che comunque ha il dovere di vigilare e che probabilmente non ha vigilato. Mentre il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente si dice nauseato, e la senatrice Stefania Pezzopane chiede di istituire un tavolo sulla legalità, la nuova bufera giudiziaria sugli affari tra amministratori comunali e imprese della ricostruzione genera un altro scossone, forte, a danno di una città che non ne può più di un magna magna spudorato e di un giro di mazzette di cui, oltre alle inchieste finite alla ribalta delle cronache, tutti sanno e tutti parlano. L'inchiesta del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila, che ha portato agli arresti dell'ex vice sindaco e assessore all'urbanistica Roberto Riga e di Massimo Mancini, imprenditore di ILE e vicepresidente dell'Aquila Calcio, e poi Paolo Aielli, ex capo dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, indagato a piede libero per abuso d'ufficio in concorso con l'allora dirigente del settore ricostruzione privata del comune dell'Aquila Vittorio Fabrizi, Giotta un velo d'ombra sull'intera gestione dei fondi del post-terremoto all'Aquila da parte di tutti gli antipubblici, che a vario titolo avrebbero dovuto vigilare più e meglio anche in nome delle vittime. Palazzo Fibbioni trema ancora sull'onda d'urto del terremoto giudiziario, sulla ricostruzione privata, la fetta più ricca del post-sisma, perché prevede la quota maggiore dei finanziamenti statali e la più ambita a causa delle modalità di affidamento diretto alle imprese di commesse spesso milionarie. Al centro dell'inchiesta l'appalto ultramilionario, 28 milioni di euro, per la ristrutturazione dell'opera salesiana Don Bosco. Il punto di partenza dell'inchiesta, come evidenziato dalle indagini, è stato proprio l'intervento per realizzare una nuova sala riunioni per i giovani nell'oratorio di Via Don Bosco. Al centro dell'inchiesta un giro di mazzette che nel caso di Mancini si sarebbe evidenziata con un affitto gonfiato di un appartamento di proprietà della moglie di Riga. Per corruzione sono indagati anche due imprenditori locali che operano nel settore d'Ile, Simone Lorenzini e Sandro Martini, per i quali è stata disposta la misura interdittiva del divieto temporaneo dell'esercizio di impresa per il periodo di un mese. La procura dell'Aquila avrebbe scovato auto di lusso, prese da Riga attraverso un assegno considerato pure questo corruttivo, di un altro imprenditore che aveva numerose commesse. Infine vengono contestati altri versamenti definiti prestiti dagli indagati ma mai restituiti. La ricostruzione privata merita grande attenzione perché è caratterizzata da una carenza normativa e perché è in questa che si concentra gran parte del flusso economico. Queste le parole del procuratore Cardella, mentre per il capo della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, Sergio Aloia, l'inchiesta dimostra che il settore della ricostruzione privata è particolarmente esposto a fenomeni di malversazioni, episodi corruttivi e di frode, quindi la guardia deve essere sempre molto alta. Istituire un tavolo sulla legalità è questa la richiesta della senatrice Stefania Pezzopane, indirizzata al prefetto dell'Aquila Francesco Alecci, dopo le ultime inchieste sulle mazzette della ricostruzione dell'Aquila. Per noi Daniela Rosone. La senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane chiede al prefetto dell'Aquila Francesco Alecci di convocare un tavolo sulla legalità. Questo dopo le recenti inchieste della magistratura. La Pezzopane ha già presentato in Senato un disegno di legge, ma con i ministri Alfano ed Orlando afferma bisognerà condividere altre norme e atti ancora necessari per completare la ricostruzione, in modo che il malaffare sia tenuto lontano. Con l'ultimo decreto antilocale, ricorda la Pezzopane, sono state inserite già alcune proposte in tal senso, come ad esempio l'obbligo di autocertificazione antimafia appena l'annulità dei contratti per le imprese e i professionisti impegnati nella ricostruzione privata, come le norme più severe, il limite del 30% per i subappalti, come la tracciabilità dei flussi finanziari, con la possibilità per la Corte dei Conti di fare delle verifiche a campione anche attraverso la Guardia di Finanza. Alcuni emendamenti della Pezzopane in realtà indirizzati proprio in questo senso sono stati già bocciati, poiché il ministro Alfano ritenne allora di non dover sovraccaricare troppo le prefetture. Per questo la senatrice Dem si rivolge direttamente al prefetto dell'Aquila Lecci, poiché le questioni venute fuori negli ultimi giorni, dice, fanno emergere la necessità di inserire altre norme che possano garantire trasparenza e legalità. E ora veniamo alla sanità. Ospedale San Salvatore dell'Aquila, ginecologia a dicembre nei nuovi locali. Entro la fine di dicembre, infatti, il reparto di ginecologia, insieme a quello di neonatologia e terapia intensiva neonatale, si trasferirà nei nuovi locali. Più posti letto ha assicurato il direttore generale della ASL, Giancarlo Silberi. Entro la prima metà di dicembre, il reparto di ginecologia dell'ospedale San Salvatore si sposterà nei nuovi locali del delta chirurgico, al primo piano. Qui andrà anche neonatologia e terapia intensiva. A chi dice che gli spazi sono di fatto ridotti rispetto all'attuale, il manager della ASL, Giancarlo Silberi, risponde che saranno tra i 22 e i 24 posti letto, dunque in numero superiore. Sarà un reparto bello e funzionale, assicura Silberi. È quasi pronto, si sta finendo di montare anche la vasca per il parto in acqua. Logisticamente, assicura, sarà molto meglio di ora, poiché tutto sarà concentrato in un unico piano. Sulla storia delle ecografie morfologiche, invece, storia che va avanti con rinnovi di contratti da anni, ormai senza assumere mai nessuno, Silberi assicura che è tutto risolto. La questione si era bloccata solo per un ritardo nel redigere la delibera, per cui il dottor Moscatello, dice Silberi, proseguirà il suo rapporto di lavoro. Certo è che in sede di cambiamenti della ASD, di revisione degli organici, si potrebbe pensare anche all'assunzione di una figura professionale, per non navigare a vista in futuro. In tutto questo, liste di attesa lunghe e lamentali degli utenti. È vero, dice Silberi, che le attese sono lunghe, ma è anche vero che molto spesso il 30-40% dei pazienti non si presenta, provocando poi intoppi e problemi agli operatori. Stessa cosa dichiara per gli screening. Chiamiamo le persone a casa gratuitamente. Vedi, ad esempio, la prevenzione al tumore al seno, al tumore al cono retto. La risposta dell'utente, in genere, dice, è bassa, circa il 20%. Anche la cultura della prevenzione, quindi, deve cambiare. E finalmente una pagina di buona sanità. L'equip congiunta dell'unità operativa di Otorino, l'aringoiatre, chirurgia maxillo-facciale, ha eseguito con successo un intervento di ricostruzione facciale completo. Un'operazione delicatissima, durata sette ore, nell'equip dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, il dottor Enzo Iacomino, il dottor Desiderio Di Fabio, la dottoressa Luisa Crosta e il dottor Patrizio Evangelista. Il paziente, noto alle cronache, perché vittima di un grave incidente in bicicletta, avvenuto la scorsa domenica, da ieri è stato messo in respiro spontaneo e trasferito dal reparto di rianimazione per il proseguio, poi, delle terapie di cura. Lo sportello per il mobbing sul lavoro si rafforza. Rimaniamo all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove un direttore nuovo e un team con cinque servizi integrati rafforzeranno lo sportello mobbing e del lavoro. Possono accedere allo sportello sia dipendenti pubblici che privati con un certificato del medico di famiglia. Allora sentiamo tutti i particolari. Lo sportello di ascolto per mobbing sul lavoro all'ospedale San Salvatore dell'Aquila si riorganizza al lavoro un team di cinque servizi integrati, medicina del lavoro, psichiatria, psicologia, medicina legale e tossicologia delle dipendenze, con prenotazioni al CUP in tutti gli ospedali o distretti sanitari della provincia dell'Aquila. Il servizio affidato all'autorevole guida del nuovo direttore, il professor Antonio Poletti, possono accedere tutti i cittadini, dipendenti pubblici o privati, tramite richiesta del proprio medico di famiglia che valuta se, in linea di massima, il disagio rientra nell'ambito dell'ambiente di lavoro. Con la certificazione del proprio medico di base, l'utente si prenota tramite CUP negli ospedali dell'Aquila, Vezzano, Sulmona e Casteldisangro oppure nei distretti sanitari. Per prendere l'appuntamento ci si può recare di persona alla sede di prenotazione della zona di residenza oppure telefonare al CUP. Nel secondo caso sarà possibile chiamare il centro prenotazione a partire dal 18 novembre prossimo al numero gratuito 800 862 862. Al call center l'interessato deve fornire dati riportati sulla ricetta del medico di famiglia, specificando che si tratta dello sportello mobbing. A conclusione della prenotazione telefonica occorre attendere la conferma, di solito e immediata, dell'appuntamento fissato dall'operatore CUP, con l'indicazione di giorno e ora del primo accesso al servizio. Alla data fissata l'utente raggiunge l'ospedale dell'Aquila, dove viene sottoposto alla prima visita, gratuita, all'ambulatorio situato nel blocco L2B. In seguito alla prima visita, effettuata nel medico del lavoro, viene fatta una prima valutazione. Vengono poi disposte due visite specialistiche, una psichiatrica nel reparto dell'ospedale diretto dal professor Alessandro Rossi e l'altra psicologica, che viene eseguita nello stesso ambulatorio da uno psicologo del Dipartimento di Salute Mentale, diretto da Vittorio Sconci. E ancora sanità, lavoratori delle farmacie comunali, i sindacati vogliono e pretendono i buoni pasto. La CISL prende posizione sulla questione dei buoni pasto ai dipendenti delle farmacie comunali, così, secondo i sindacati, si risolverebbe un problema logistico relativo alla mensa. La dirigenza FM per ora non concede questa possibilità, ma comunque dimostra apertura. Buoni pasto per i lavoratori delle farmacie comunali dell'Aquila è questa la richiesta che è stata avanzata dal sindacato CISL nell'incontro che si è svolto alla presenza del presidente dell'AFM, Giorgio Masciocchi, e delle altre organizzazioni sindacali. In discussione, oltre a questi ticket, anche la regolamentazione delle assemblee dei lavoratori e altri punti all'ordine del giorno. Elvezio Sfarra, responsabile CISL dell'Aquila, ha detto di aver sollecitato l'erogazione dei buoni pasto per i dipendenti FM che attualmente usufruiscono di un servizio mensa nell'exompi. Soluzione questa che pone più di un problema logistico, considerata la dislocazione, ha detto, di molte farmacie comunali. La dirigenza dell'AFM ha rigettato per il momento la richiesta, di cui si tornerà a parlare nel prossimo incontro con i sindacati, motivando tale scelta con una questione di principio, relativa alla stretta applicazione del contratto e come una scelta di cassa. Entrambe le motivazioni sono infondate, però in calza Sfarra. A nostro avviso l'erogazione dei ticket in sostituzione e integrazione del servizio mensa consentirebbe invece un risparmio in bilancio, garantendo ai lavoratori di usufruire di un servizio migliore. L'AFM ha mostrato comunque apertura verso la possibilità di valutare una doppia dislocazione della mensa ad est e a ovest della città, per evitare ai lavoratori FM spostamenti eccessivi durante la pausa pranzo. La trattativa si è interrotta con la richiesta da parte delle organizzazioni sindacali della convocazione di un nuovo tavolo di trattativa per definire la questione dei buoni pasto, la regolamentazione dell'assemblea e del personale e altri punti all'ordine del giorno. Bene, con questa notizia termina il TG TV6 L'Aquila. Io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro naturalmente un buon proseguimento con i programmi di TV6. Grazie per la visione! Grazie a tutti.